Buonasera segretaria, benvenuta. Grazie. Buonasera a lei. Grazie. Che calore, guarda. Grazie. Grazie mille. Prima donna e più giovane leader del Partito Democratico. Tanto appena iscritta è stata eletta segretaria, cioè quella cosa non cade tutti i giorni. Una vittoria si è detto contro i pronostici, anche se mi pare di capire che lei non l'abbia vissuta così. Lei ha detto che non ci hanno visto arrivare. Questo voleva dire che lei sapeva che stava arrivando. Sì, non ci hanno visto arrivare perché abbiamo sentito sin da subito, sin da quando ho lanciato la candidatura, un fortissimo calore. Si è risvegliata una speranza, si è riunito un popolo e abbiamo dimostrato con quella straordinaria partecipazione di domenica scorsa più di un milione di persone che il popolo democratico c'è. È vivo, ha voglia di ricostruire un'alternativa a queste destre. Quindi sì, io devo dire, ci credevo tanto dall'inizio perché questa onda si muove in forme nuove. Non è un modo tradizionale di costruire il consenso, non è un consenso organizzato. Funziona tanto sul passaparola delle persone che si appassionano ai nostri temi, alle nostre battaglie e in qualche modo ne convincono tante altre. Senta, togliamici subito un pensiero. Una domanda che riguarda quello che è accaduto rispetto ai voti. Cioè, i voti nei circoli del PD degli iscritti erano una cosa, a favore dei Bonaccini. Poi, invece, i voti dei simpatizzanti del PD, il voto appunto delle primarie, ha scelto lei. Che cosa significa questo? Che risposta si è data? E che cosa deve fare subito dopo per congiungere questi due elementi apparentemente distonici? Beh, anzitutto lunedì, proprio appena dopo la vittoria, avevo già annunciato che avremmo aperto e riaperto il tesseramento al partito il prima possibile. Ho il piacere di annunciare questa sera che l'abbiamo già riaperto online sul sito del Partito Democratico e nei prossimi giorni stiamo già lavorando con i circoli, con i segretari su tutto il territorio del nostro paese per poterla andare a fare anche nei circoli. Oggi sul sito possono già farla, quindi l'invito e l'appello a tutto quel popolo delle primarie è venite, aiutateci, abbiamo bisogno di voi, entrate a far parte di questa comunità democratica perché ci servono le vostre competenze, le vostre idee e la vostra passione. Qual è la responsabilità più grande che attribuisce a lei questa vittoria? Qual è la cosa che sente di più? Beh, essere all'altezza di questa aspettativa di cambiamento che abbiamo detto dall'inizio, dobbiamo cambiare i volti, dobbiamo cambiare il metodo, dobbiamo cambiare la visione di questo Partito Democratico e se tante persone sono tornate a votare e hanno fatto questa scelta è perché l'aspettativa è finalmente di avere un partito che sia umile nell'ascolto e utile alla comunità. Cioè noi abbiamo chiarito in questo congresso chi vogliamo rappresentare, l'Italia che fa più fatica, saremo al loro fianco in ogni battaglia ma certamente è un lavoro di ricostruzione di fiducia e di credibilità e questo ci vorrà un po' di tempo e lo stiamo già facendo e sarà forse la responsabilità più grande che abbiamo. Non tradire questa fiducia e questa speranza. Venerdì scorso lei ha incontrato il suo sfidante Stefano Bonaccini, si era ipotizzato sui giornali del nome di Bonaccini come presidente del partito. C'è qualcosa di vero e prematuro? Stiamo discutendo, in realtà le forme e i modi le discuteremo. Quello che per noi era importante già dal primo incontro dopo le primarie era testimoniare la nostra voglia di lavorare insieme. Cioè tenere insieme questa comunità, salvaguardarne anche il pluralismo ma senza rinunciare a una direzione chiara che è quella su cui si sono espressi gli elettori e gli elettrici durante le primarie di domenica scorsa. Ecco, io lo dico da subito. Sarà mio interesse, l'ho detto già la sera del voto, essere la segretaria di tutte e di tutti. Questa è la responsabilità di chi vince. Quindi riuscire a lavorare bene insieme anche agli altri candidati, a Stefano Bonaccini in primis, con cui abbiamo già dimostrato al governo della regione Emilia-Romagna di sapere lavorare bene insieme e naturalmente anche di Gianni Cooper, lo Paola De Micheli. Insomma, noi dobbiamo riuscire finalmente a dare la dimostrazione che è finito il tempo dei personalismi e anche di una conflittualità interna che è tutta energia sprecata rispetto alla costruzione dell'alternativa alle destre. Se mi posso permettere, insomma, alla manifestazione di ieri, per esempio, indetta dai sindacati a Firenze dopo l'aggressione neofascista davanti al liceo Michelangelo, è comparsa questa foto di lei con Conte, con il leader dei 5 Stelle, con Landini. È stata vista quella foto come una visione plastica di quello che potrebbe essere il partito che lei immagina, cioè un PD che va da quella parte. Ammesso che Conte ne lo consideri di sinistra, non lo so, ma, insomma, diciamo, è così? È quella la direzione? Intanto, fatemi dire che ieri c'è stata una straordinaria partecipazione, una mobilitazione di 40.000 persone che hanno dato la migliore risposta a quell'aggressione squadrista di stampo neofascista che abbiamo purtroppo visto davanti ad una scuola. La scuola è un luogo del sapere, è un luogo della conoscenza e quindi, diciamo, le tante persone che si sono riunite ieri a difesa della scuola pubblica e della Costituzione hanno voluto lasciare un messaggio chiaro, e cioè che questi metodi squadristi non passeranno, che non saranno tollerati. Quindi io sono contenta che i sindacati abbiano deciso unitariamente di organizzare e di lanciare questa mobilitazione delle tante persone che l'hanno raccolta e anche che ci fossero diverse altre forze politiche. Io credo che ieri abbiamo soprattutto trovato sui temi, su alcuni temi concreti, la necessità, la voglia di comunque fare opposizione in maniera più efficace, più coordinata e questa è una necessità che voglio rilanciare naturalmente anche alle altre forze di opposizione. Sulla scuola pubblica non si scherza, guardate, la piazza di ieri è anche una risposta alle prime dichiarazioni che ci sono state da parte di questo governo, molto preoccupanti, perché noi dobbiamo concentrarci anzitutto sul fatto che bisogna assicurare il diritto allo studio. Ho incontrato davanti all'Università di Cosenza degli studenti e delle studentesse che mi hanno raccontato che non hanno accesso alla borsa di studio pur avendone diritto. Ecco, fare insieme una grande battaglia per dire che non dovrebbero più esistere gli idonei non beneficiari di una borsa di studio, che dovremmo sì pagare meglio gli insegnanti, ma tutte e tutti gli insegnanti perché siamo il paese che li paga meno in Europa e ridare dignità sociale. Ecco, io ho pensato in questi giorni, in cui si parla anche di lettere importanti di presidi ai propri studenti, che è sempre il tempo di una lettera a una professoressa e che l'insegnamento, diciamo, di Don Lorenzo Milani era proprio volto ad una scuola come primo luogo di riscatto e di emancipazione sociale, mentre questo governo, se ci pensiamo, ha messo il merito nel nome del Ministero prima di dire che a ogni bambino e bambina d'Italia va assicurato uguale diritto di accesso a un'istruzione di qualità. Segretario, per tornare alla domanda che le ho fatto, beva pure l'acqua, beva tranquillo, per tornare alla domanda di prima, lei deve tenere da una parte appunto le istanze riformiste che sono all'interno del partito e dall'altra ricompattare, diciamo, l'anima di sinistra del Partito Democratico. Il coordinatore della sua mozione, Boccia, ha detto che rompere l'alleanza con i Cinque Stelle è stato un errore. Lei la pensa anche allo stesso modo? Guardi, i risultati della elezione di settembre sono anche sì il frutto delle mancate alleanze, della mancata capacità di costruire attorno ad un progetto per il Paese, un fronte, un campo che potesse essere competitivo rispetto a quelle delle destre. Credo che dopo le sconfitte anche alle elezioni regionali sarebbe irresponsabile, se noi non provassimo con le altre forze di opposizione, a trovare nelle nostre differenze alcuni terreni di battaglia comune. Ne voglio citare uno, anzitutto, su cui rinnovo il mio invito a tutte le altre forze di opposizione, al Terzo Polo, ai Cinque Stelle e anche alla Sinistra e ai Verdi, quello del salario minimo. Su questa grande battaglia per dire che sotto una certa soglia non si può chiamare lavoro perché è sfruttamento, tutte le opposizioni hanno presentato delle proposte in Parlamento. Facciamola insieme, dico io, in Parlamento e nel Paese, perché soltanto così saremo più efficaci e potremo davvero rispondere all'aspettativa di quei tanti giovani che purtroppo stanno lasciando il Paese. Perché questo è un governo, diciamolo, ossessionato dal tema dell'immigrazione, che non ha visto l'emigrazione di tanti giovani che con i salari così bassi e con i contratti così precari fanno la scelta spesso di dover andare da un'altra parte, in un altro Paese per costruire un futuro dignitoso. Ecco, invece noi vorremmo che ci fosse qui la possibilità di avere un salario dignitoso e di costruirsi una prospettiva di futuro. segretaria, senta, ma visto che è la prima occasione ce la giochiamo, no? Quali rapporti avrà il suo Partito Democratico con Renzi e con Calenda? Cioè, voglio dire, lei teme, per essere chiara, una fuoriuscita di elettori riformisti verso il terzo polo o se vuole, diciamo in un altro modo, lei è più vicina al reddito di cittadinanza o alla 4.0 di Calenda che è stata una riforma importante per l'economia italiana? Guardi, noi siamo vicini e vogliamo stare vicini, come dicevo prima, a quell'Italia che è fatta di persone che oggi fanno estremamente fatica ad andare avanti. Sono lavoratrici e lavoratori precari, quelli dimenticati, quelli che hanno dei lavori intermittenti, che non sanno nemmeno oltre al salario minimo se avranno un orario minimo questo mese perché non sanno quanti giorni lavoreranno, ma è anche quella delle piccole e medie imprese che stanno facendo fatica a stare in un mondo che cambia velocemente intorno a loro. Siamo in mezzo a una trasformazione digitale e anche a una transizione ecologica. Io credo che più dei politicismi e più delle simpatie tra di noi, tra i gruppi dirigenti dei vari partiti, conti quello che possiamo fare insieme. Io sono convinta che alcuni di questi terreni li possiamo esplorare insieme. Io ho sentito Carlo Calenda, così come ho sentito Giuseppe Conte dopo la vittoria delle primarie e credo che sul salario minimo, sulla difesa della sanità pubblica, perché un governo che non mette un euro in manovra sulla sanità pubblica a fronte di un'inflazione che è sopra l'11%, non sta facendo una scelta neutra. Diciamola alle italiane e gli italiani. Stanno tagliando i servizi ai cittadini e credo che con il terzo polo, con il Movimento 5 Stelle e naturalmente anche con la Sinistra e Verdi, noi questa battaglia a difesa della sanità pubblica contro ogni prospettiva di taglio, di privatizzazione, la dobbiamo fare insieme. Segretario, Romano Brodi ha ricordato che per combattere le disuguaglianze e per distribuire le ricchezze ci deve essere sempre prima chi crea ricchezza. Su questo è d'accordo anche lei, immagino? Beh, sicuramente è bene che ci sia chi fa i profitti. A noi interessa che i profitti siano adeguatamente redistributi. Qual è il rapporto tra il PD e gli imprenditori e anche la redistribuzione? Sa che c'è stato il timore, la Schlein ha in mente di nuovo la patrimoniale. E' interessante sapere la sua opinione. In un paese in cui c'è un'evasione fiscale così alta e una criminalità organizzata che produce un PIL quasi uguale a quello legittimo, insomma, a quello legale, e voglio dire, in realtà la patrimoniale dovrebbero pagarla loro, chi non paga le tasse. Guardi, due cose. La prima, questo è un governo che nella prima manovra ha deciso di premiare gli evasori alzando ad esempio, diciamo, il tetto del contante. È un governo che sta andando nella direzione più sbagliata mettendo anche in contrapposizione lavoratrici e lavoratori, dipendenti e autonomi che saranno tassati diversamente a parità di salario. Ecco, noi invece vorremmo poter fornire un certo sistema di tutele che riunisca, non metta in contrapposizione delle fragilità diverse, però a partire da un principio che è quello costituzionale, non lo stiamo inventando noi. La Costituzione, quando parla di progressività, dice che è giusto che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere collettivo, altrimenti qualcosa si rompe nel contratto sociale. Ora, sulla questione che lei diceva, prima ha citato una misura, quella dell'industria 4.0, che era una misura giusta, perché noi riusciamo a fare riprendere il Paese se puntiamo sull'innovazione, sulla ricerca, se come sta facendo l'Unione Europea accompagniamo le imprese, specialmente quelle piccole e medie, alla trasformazione digitale, a ridistribuirne i benefici, ma anche alla conversione ecologica, che diciamoci la verità, può essere conveniente per le imprese, perché l'economia circolare permette alle imprese di risparmiare ciò che oggi è un costo, il rifiuto, è un costo per l'impresa ed è un costo per la collettività. Se io accompagno le imprese a innovare i propri processi per ridurre i rifiuti, per ridurre le emissioni, è anche un risparmio, ma potrei farle un altro esempio importante, quello dell'efficientamento energetico, di cui tanto si parla, molto spesso a sproposito, soprattutto da parte di Salvini e della destra di questo Paese. Guardi, l'efficientamento energetico permetterebbe ad una famiglia di dimezzare per sempre i costi delle proprie bollette e anche per le imprese diventa conveniente. Quindi a me interessa come accompagniamo, cioè come il pubblico orienta gli investimenti in questa direzione e fa un grande investimento anche nelle competenze per riprofessionalizzare lavoratrici e lavoratori, perché queste trasformazioni non si faranno da sole, ma se non le guidiamo noi, purtroppo le pagheranno sempre i soliti, che sono i più poveri e i più deboli. Segretaria, lei dopo quello che è successo domenica scorsa, al naufragio a largo delle coste del Calabre, ha chiesto con forza le dimissioni del ministro Piantedosi, gliel'ha chiesto proprio direttamente. Nei mesi scorsi, nei primi mesi di questo governo il PD aveva già chiesto le dimissioni del Mastro, del ministro Valditara, adesso appunto lei e quella di Piantedosi, tutte diciamo senza successo, no? Queste richieste. Secondo lei questa volta dovrebbe essere diverso, potrebbe essere diverso? Intanto siamo il primo gruppo che ha avanzato una richiesta di informativa per cui il ministro Piantedosi dovrà venire settimana prossima in aula a riferire sui gravissimi fatti della strage di Crotone. Bisogna che si chiarisca le responsabilità e la catena di comando perché la domanda che ho fatto al ministro direttamente in commissione in Parlamento è questa. chi ha deciso che intervenisse la guardia di finanza con mezzi che evidentemente non erano adeguati rispetto invece alla guardia costiera che per stessa dichiarazione del comandante della guardia costiera lì a Crotone avrebbe avuto mezzi per intervenire perché sa che per sette ore dalla segnalazione di Frontex che già aveva inviato anche delle foto termiche per cui c'era scritto insomma che poteva presupporsi una presenza significativa umana su quella barca sono usciti due volte i mezzi della guardia della guardia di finanza ma sono rientrati senza trovare la barca allora se c'era preoccupazione perché non è scattato il meccanismo di ricerca e soccorso perché non è stata mandata la guardia costiera ma questo lo dovranno chiarire le indagini che sono in corso noi abbiamo già avanzato tutti i nostri diciamo atti ispettivi nella sede opportuna che è quella parlamentare per chiedere di fare chiarezza perché davvero io credo che quello che è successo è gravissimo ed è una ferita profonda anche perché il ministro si è messo addirittura quasi nelle sue dichiarazioni a colpevolizzare chi parte anziché porsi un'altra domanda cioè cosa devono fare le istituzioni europee e quelle italiane per evitare che accadano ancora stragi come questa tragedie come questa si dovrebbe rispondere che qual è l'alternativa che hanno le persone che cercano protezione internazionale stiamo parlando di persone ne ho incontrata una personalmente una madre che ha perso due figlie in quel naufragio e è una persona che scappava dall'Afghanistan vi ha detto di aver visto i talebani uccidere suo marito allora forse il ministro prima di dire cose inumane dovrebbe porsi il tema del fatto che noi non abbiamo vie legali e sicure per l'ingresso in Europa e in tutti i paesi europei per chi fugge da guerre discriminazioni e torture e ha diritto di chiedere protezione internazionale nei nostri paesi è stato fatto notare che nel suo discorso di vittoria alle primarie non ha parlato di Ucraina ma al New York Times che l'ha elogiata in un articolo in cui è raccontato appunto della sua vittoria alle primarie della sua segreteria del PD eccola qua lei invece ha confermato la posizione del partito democratico sull'Ucraina dicendo non sono d'accordo col movimento 5 stelle sul non invio di armi perché adesso è necessario ce lo può confermare? Assolutamente sì guardi abbiamo già votato su questo in Parlamento e io credo che sia necessario sostenere il popolo ucraino rispetto ad una invasione criminale che più di un anno fa ormai è stata avanzata dalla Russia di Putin e su questo diciamo non è mai stata messa in discussione quello che però ho sempre aggiunto è che non ci può essere sinistra senza l'ambizione di costruire un futuro di pace su quel conflitto e chiaramente anche sugli altri più di 170 conflitti che sono aperti non possiamo perdere questa idea e neanche rinunciare all'idea che alla fine i conflitti non si risolvano solo con le armi quello che io dico da federalista europea convinta è che vorrei un protagonismo forte dell'Unione Europea dal punto di vista politico e diplomatico e non sono la sola a dirla siamo tanti abbiamo sentito parole importanti le abbiamo sentite dal Papa le abbiamo sentite in questi giorni scorsi anche da Prodi cioè un ruolo diplomatico e politico forte perché Putin non è isolato ci sono ancora molti paesi all'interno della comunità internazionale che comunque lo stanno supportando e quindi riuscire a fare ancora maggiore pressione come è stata già fatta sulle sanzioni per riuscire a costruire un terreno che possa portare quanto prima alla fine di questo conflitto e possa portare ad una conferenza multilaterale di pace che non può che essere una pace giusta perché la integrità territoriale dell'Ucraina è stata violata e chiaramente va restabilita senta ma quando lei ha letto questo titolo la donna italiana che scuote la politica si è trovata d'accordo si vede in questa definizione del New York Times no ma non sta a me dirlo beh beh sì mi riconosco oppure no non sta a me dirlo io penso che io penso che che sia stato importante lanciare un messaggio e un appello guardi le analisi arriveranno io non le ho ancora potute fare però da quello che mi è arrivato dai seggi dalle tante persone che si sono messe in fila c'è stato un contributo molto importante delle donne e anche dei giovani in questa vittoria in questa elezione e io lo trovo una cosa che mi commuove molto perché dal lancio della candidatura ho fatto appello anzitutto a loro cioè a coloro che sono stati più schiacciati dalla crisi economica e finanziaria e anche dalla crisi pandemica in termini occupazionali ma sono stati più schiacciati anche in politica allora questa vittoria ha senso se apre un varco e se costruiamo insieme a partire dal tesseramento che abbiamo riaperto un nuovo partito democratico che finalmente veda prendere spazio a donne e giovani troppo spesso schiacciati da logiche di cooptazione che io non voglio più vedere la dico così mi è capitato di incontrare una ragazza che ha detto che alla prima riunione di partito a cui ha partecipato si è avvicinato un dirigente e le ha chiesto e tu di chi sei? ecco mi ha ricordato che era successo anche a me nove anni fa l'avevo rimosso si è avvicinato uno e mi ha chiesto e tu di chi sei figlia? io ho pensato ai miei genitori e non avevo capito la domanda ora io vorrei costruire adesso un partito democratico in cui nessuna donna tanto più se giovani si senta mai più chiedere di chi è perché è soltanto di se stessa e avremmo bisogno anche di lei anche nessun uomo speriamo anche nessun uomo anche nessun uomo certo secondo lei la sua vittoria in questo senso può ricompattare un partito fatto di tante correnti come il partito democratico non è facile ma guardi quell'onda di partecipazione è esattamente il presupposto migliore per superare quelle dinamiche di cooptazione e per riuscire invece a rimescolare le culture io a questo tengo tantissimo i temi su cui abbiamo vinto il congresso sono il contrasto alle diseguaglianze il contrasto alla precarietà e come facciamo una vera conversione ecologica che sia anche occasione di lavoro di qualità e di buona impresa su questo terreno il mondo intorno a noi si sta già interrogando e le culture che hanno fondato il partito democratico sono molto attive e vivaci l'ecologia integrale della enciclica laudato sì dice esattamente questo giustizia sociale e climatica stanno insieme e io trovo tra le culture della sinistra e anche quella cattolico-democratica un nuovo fertile terreno d'incontro per fare queste battaglie insieme contro la povertà contro le diseguaglianze e anche per i diritti delle persone quindi non vede rischi di scissione assolutamente no nessun rischio di scissione e lavoreremo per tenere davvero unito questo partito ma senza più rinunciare diciamo a una direzione chiara e al coraggio che serve è una cosa molto pratica ma sul termovalorizzatore di Roma per esempio che succederà? il sindaco Gualtieri della giunta Gualtieri lo vuole fare il Movimento 5 Stelle l'ha sempre contrastato lei come se la cava in me? ci confronteremo con tutti i nostri amministratori locali sulla base del lavoro che stanno facendo dappertutto sicuramente su alcuni temi chiederemo maggiore impegno le voglio fare un esempio concreto quando ho iniziato a fare politica nove anni fa mi imbarazza a dire che stavamo già facendo una battaglia che ancora non è andata in porto nonostante il Partito Democratico sia stato al governo in questi anni ed è la battaglia per fare finalmente una legge che contrasti il consumo di suolo a livello nazionale perché abbiamo cementificato troppo in Italia ne stavate parlando anche prima con Luca Mercalli il nostro suolo è più fragile è anche più esposto agli eventi climatici estremi senza quella legge noi lasciamo amministratrici e amministratori esposti senza una programmazione territoriale alla prima offerta di una grande azienda che viene a offrire di fare un polo logistico senza alcuna diciamo programmazione di dove ha senso farlo io credo che una legge sul consumo di suolo serva e accanto a questa serva anche investire più risorse nella prevenzione del dissesto idrogeologico perché non possiamo più essere un paese che spende quattro volte dopo le emergenze quello che invece investe nella prevenzione del dissesto Segretaria lei ha detto saremo un grande problema per il governo Meloni qual è diciamo il primo fronte sul quale lei si troverà impegnata rispetto a questo governo beh guardi purtroppo i fronti aperti sono tanti questo governo sta forzando la mano anche su un tema per noi fondamentale che è quello delle diseguaglianze territoriali l'altro giorno Calderoli il ministro ha detto di avere avuto il via libera da parte della conferenza unificata su un progetto che noi riteniamo di rigettare con forza che è quello dell'autonomia differenziata fatta scavalcando il Parlamento nel dire che i livelli essenziali di prestazione che trattano i diritti fondamentali delle persone spieghiamolo a chi ci ascolta trattano il diritto alla salute il diritto alla scuola il diritto al trasporto possono essere fissati da una cabina di regia senza mettere un euro in più sul sud che ha già pagato abbastanza noi crediamo che non ci possa essere il riscatto dell'Italia senza il riscatto del sud e per questo ci opporremo con forza a questo disegno anche perché in quella conferenza unificata in realtà sono state sollevate dei pareri contrari da parte di diverse regioni e anche molte criticità da parte delle province e dei comuni e quindi quella che ha detto il ministro Calderoli è una bugia e noi contrasteremo con forza questo disegno perché non crediamo che sia la strada questo paese va ricucito non va diviso ulteriormente senta quando nel lasciare la segreteria del partito Enrico Letta le ha regalato un melograno gli ha detto che era un simbolo di serenità o di prosperità entrambi le cose credo non c'è più nessun problema con l'aggettivo sereno va bene si può dire tranquillamente senta infine volevo farle vedere il nostro tv boy che ha dedicato a lei la sua opera di questa settimana ecco come viatico per eccolo qua per il suo il suo lavoro ah un'ultima cosa scusi ma è vero che lei ha studiato in Svizzera ha fatto le scuole svizzere ho fatto le elementari sì in Svizzera e anche le medie e il liceo sempre in scuole pubbliche visto che tra le fake news che mette in giro l'estrema destra c'è anche questa chiunque sia nato in Svizzera deve essere per forza milionario voglio sfatare questo mito non lo sono vengo da una normalissima famiglia borghese però è nata lì li ringrazio per i sacrifici che hanno fatto per far studiare bene me e i miei fratelli la scuola pubblica è un investimento fondamentale e anche su questo terreno noi saremo lì a dire al governo che non vogliamo più sentir dire che le scuole pubbliche dovrebbero cercarsi dei finanziamenti privati prima che il governo dica che soldi ha intenzione di mettere sulla scuola pubblica e sul diritto allo studio vi avevo chiesto anche l'altra volta sua sorella in Grecia sta bene? si sta bene tutto a posto dopo l'attentato si è rimessa subito al lavoro anzi colgo l'occasione per dire e rimarcare anche la totale non accettazione e condanna di questi fenomeni di violenza che stiamo continuando a vedere li abbiamo visti purtroppo anche ieri a Torino nel corso di una manifestazione non ci può davvero essere nessuna accettazione e tolleranza di questi fenomeni di violenza su questo voglio essere netta e riesprimere tutta la mia solidarietà a tutte diciamo le sedi consulari e diplomatiche che hanno subito attacchi in questi mesi e non solo sedi consulari e diplomatiche ecco noi dobbiamo tenere cara diciamo la difesa dei principi di democrazia di pluralismo e su questo non possiamo rientrare di un centimetro e vorrei che su questo tutte le forze politiche fossero sempre nette grazie grazie a voi grazie per essere stata con me grazie al segretario del polito democratico Ellie Schlein grazie quello che scusi sono gli appunti di Ellie questi allora questo è un tacquino che mi hanno regalato dopo che mi hanno fregato lo zaino in treno con i miei preziosi traquini in cui avevo segnato tutte le testimonianze anzi facciamo di nuovo un appello a chi ce l'ha fregato magari almeno i tacquini ridateci grazie grazie